Chiedo tutto il vostro supporto su questo video ragazzi Se superiamo i 4000 mi piace entro mezzanotte Preparatevi perché io e il buon Fabio faremo i pronostici gameplay Di tutti i big match dei mondiali Vi lascio al video, buona visione Però l'Italia ce l'ho io Sì vabbè ma ferma dell'Olanda sta messa peggio di noi Eh appunto, si sa chi sta messo No ma hanno fatto ridere che la gente dice Eh ma abbiamo giocato bene, peccato che abbiamo piato 3 a 1 abbiamo perso, ci hanno piato un palo, ci hanno piato una traversa Ci hanno fatto un bucio di culo grosso così Ho giocato bene il parolone Siamo diventati i provinciali capito? Come altri uomini in a gamba che perdono 10 a 3 Però eloggiano tutto quello che De Bono hanno fatto Quelle poche cose Questa è diventata l'Italia Ma ha detto, spettacolo, la gente gliela pure lei Ma ha detto questo, allora C'è Italia-Olanda Che sulla carta non vale assolutamente niente Niente del niente Perché noi il mondiale non lo faremo Ma non lo farà neanche l'Olanda Quindi questa è la sfida dei poveri È la sfida sfida delle denunze Giocheremo bene e perderemo 8 a 0 Però eloggeranno l'Italia perché abbiamo creato la Madonna Ma detto questo vogliamo dare il via la sigla Perché lo facciamo su Figa18 Voi non potete capire Perché su Ah se no no Ne parliamo dopo la sigla Perché guarda è successo qualcosa Che le bestemmie Vai vai Piano 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 Con tutte e due le mani Non ci riesco a tirare Perché questa sta migliorando Ma ancora non riesco proprio Vabbè Ciao Ciao ragazzi Ben ritrovati Allora Diciamo quello che è successo Che stai a fare Che è una caccola Merda Che schifo Ma lei va di tarca Ragazzi Che cosa è successo Ci avete detto l'altro giorno Ma che siete pirla C'è la modalità mondiali E sotto andate nella selezione squadra Basta scegliere non qualificate Eh sì ok Ok non lo avevamo visto Ma le squadre non sono aggiornate Le squadre non sono aggiornate Fanno più schifo della merda Cioè io non lo so A meno che non abbiamo Di nuovo sbagliato qualcosa Ma non credo Perché non c'erano aggiornamenti C'era niente Cioè in genere Le hai aggiornate solo Le rose del magine Abbiamo fatto aggiornamento De rose del genere Siamo accorti No no L'aggiornamento del rose Io l'ho fatto Vabbè ormai Vabbè Ormai è andata Dio del magine Dio del magine No no Ha fatto l'aggiornamento Ma ha fatto Tiiii Eh Dopo ce li proviamo Ma ormai le abbiamo fatte Ormai le abbiamo fatte Van Dick Vakif Pip Pip Ragazzi e mie Cominciamo Ci siamo dilungati troppo Probabilità di formazione Che è namichevole Gireranno tutti i giocatori Fate le scelare 40 minuti E poi fate quello che cazzo me pare Tiè Dai a che si comincia Dai a che si comincia Battaglia delle monete Voglio tutti i sor Eccolo Eccolo Dai Sempre fallo a te Dama Come sta cosa Guarda me ne vado Me ne vado Vabbè Basta basta Allora ragazzi Io c'ho Non è che voglio fare le scuse Le cose e quant'altro Ma sto ancora con la tendinite Anche se tra antidolorifici E una cosa in altra Sicuramente il braccio Sta smaneggiando molto di più Pierluigi Casso E Stefano Fava Vi danno appuntamento A questa nuova partita Importantissima Per la Coppa del Nonno Erbalun In questo momento Partirà la sigla Della Coppa del Nonno Ecco Bene E adesso Chi è quello Strotman Numero 6 Non c'ha somia per niente Non c'ha somia per niente Guarda guarda L'entusiasmo Proprio Se vede che stiamo Proprio in ottica mondiale De quelli Che dicevo Ma c'è il spettacolo Che te tira Che te fa Holland 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 Cominciamo Tanto Abbiamo messo Per in Però che capelli Sembra un barbone Sembra Quello In segno Un po' ci assomiglia Ma ha detto In segno Sì E Bonucci Ma è ovvio Che sia così Bonucci Capitano Tu sei Lollanda Lollanda Con 532 Bene Che ha fatto Cominciamo Oh T'allarchi Chilometre e mezzo Mattia Penin Guarda che cazzo Gli hanno fatto un testo A sto Cristiano Guardiata di quei capelli Perché sa Andando a sti froci Guarda che roba E niente Pensavo che potevo Stapinare Stapin Spatapin Guarda Dai Scafoccia Capo E vaffanculo Memphis the guy Ecco Mo che io cazzo Gli faccio Io qua Fai più schifo Tu che lui Guarda Che schifo Avanza 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 La difesa 5 Non ho capito Come cazzo Fa da prima E così Calcio Un'angolo Zitti Zitti Che buonissimo Puta Chi è questo Sto cazzo Bene Bene Chi è Chi è Chi è Non lo so Chi è Ma chi è questo Chi è che sta a spaccare Bandiera Schiaccia Tutto Sì ma te fa sempre la stessa cosa Bene Cioè si allargano in mezzo Come niente fosse Guarda che Speed pin È uno spin Guarda Guarda che ha fatto Guarda che ha fatto Spata Plim Che gol ragazzi Questi sono i gol che voglio Mi farà mai Che a Roma Mi fa con l'Italia Sto stronzo Ma manco con l'Italia Li fa E in amichevole poi Dici Prova la conclusione Il pachetto Ma dove sentire Con di teo Il cazzo di gol Sto a cascata La tribuna Sto a cascata Ho risultato Diversa Ha fatto Strato Strato Ripeto Ho recuperato Palla bene E tu zia Subbito Guarda l'azione veloce Plim Plim Ho scivolato Ma Cazzo Dei capelli Incevede Gli vanno in faccia Non ha fatto Non basta Cioè Se poteva mettere Un co di Tiro ancora Dissero Il pareggio Di Elia E zia Non hai capito Un cazzo Non hai capito Un cazzo Guarda 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 Che cazzo Stai a fa Guarda Com'è passato Guarda Guarda Ma levate Dar cazzo Non me pio Sì perché se te lo tagli Dici no Grazie L'idea L'idea c'era Ma che cazzo Però Forza Italia Forza lupi Sono finiti Tempi No veramente Da Roma Lupi Allora Per 3 3 2 Sì va bene Che vuoi di Che vuoi di Fai schifo Parista E c'hai culo Ma Mi stacchi Ma perché cazzo Mi si appiccicano Guarda 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 Ti spera Mortarci Ma che Mi hai fatto Io L'ho fatto Ah Tu Mi ha pizzicato Una zanzara Quella zanzara Di prima Tarragi Tarragi Questo ce l'ha disegnata Una figa Sul collo Che è qua Roba Levi Mongolo Chi metti Indicappato Tiè Guarda Che Se vede Che è Amichevole Guarda Guarda Si Si Scrattugiano Occhio A questo Racco Ma si ha fatto Il contrasto Cazzo No Ma si ha fatto Il contrasto 2 1 Buona Una fregna E ventura Ventura Eh si Eh Spi L'ha fatto Il contrasto 2 a 1 Che fa rima Con vaffanculo Infatti Guarda che gole Guarda 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 Quell'altro C'è la mano Ecco Questo varrà La qualificazione Al prossimo mondiale Si Del cazzo Che ti se frega Ecco Mettete in ginocchio E fa Mena Si Con la voglia Di gridare Al mondo Siamo Campioni Nel mondo Campioni Nel mondo Campioni Nel mondo Campioni Nel mondo Abbracciamoci Forte E vogliamoci Tanto bene Tutto solo Mortacci Su E' buona Tira di Mortacci Lezzini Che te crepa Ecco Sto bastando Oh ma da di I gambi Ma da di No Ha tirato Largo Spata Splaff Ammazzalo Ammazzalo Sti cazzi Oh Beh che ce l'hai Beh che ce l'hai Mettila Mezzo che buona Ma fanno bene Sto colpo di testa Da giù Eccolo Che parte uno stronzo Piede di quelli Che ho vinto Che Pura Ho vinto Quindi 2 a 1 Per l'Olanda Nella realtà Perché il pronostico Effemminato Play Ovviamente Si verifica Al contrario Ma ragazzi Miei Allora Che ce sta Ce stanno i mondiali I mondiali Stanno per Incombere Per scombere Mondiali Is coming Di conseguenza Se volete Che cominciamo I pronostici Gameplay Dei mondiali Ovviamente Delle partite Più importanti Ci teniamo Che supportiate Questo video Almeno con 4.000 mi piace Entro la mezzanotte Così come è avvenuto Facilmente Perché ce n'erano 5.000 Entro la mezzanotte Per il video scorso Che era quello Con la Francia De conseguenza L'abbiamo detto Se lo volete Faccio una fatica immensa Perché ancora Non sono al 100% Sia per editare Sia per giocare Quindi tanti tanti like Se arrivano i mi piace Lo faremo Altrimenti Se non arrivano i like richiesti 4.000 entro mezzanotte Ragazzi Se ne fa una lina Detto questo Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Così ci vediamo Alla prossima No profilo Instagram Gabo Man 7 Profilo Telegram O meglio Canale Telegram Lasciamo i link In descrizione Perché Youtube Le fede non le manda più Ci ha rotto il cazzo Ci ha rotto il cazzo Ormai Dobbiamo provvedere È inutile pure dirlo Quindi ragazzi Iscrivetevi Iscrivetevi Sia a Instagram E a Telegram Su Telegram Mandiamo proprio I messaggini Ragazzi Arriva il nostro messaggio privato Con ogni video Che pubblichiamo Quindi non vi perderete Neanche Mezzo contenuto Esattamente Detto questo Alla prossima Rosi Ti ruote il culo No perché Rolando Mi fa schifo Ecco Non riesco a giocare Sì Ciao